Io credo fortemente nel valore educativo dell'estetica. Infatti penso che la grande bellezza sedimentata nel nostro paese potrebbe essere una specie di riferimento etico per il pianeta. Penso anche che dovremmo reimmaginarci un ruolo per questo cosiddetto design italiano. E se fosse la nostra capacità di far innamorare le persone, quello è realmente un antidoto all'individualismo, io credo. Dovremmo provare a fare progetti come fiori, utili e meravigliosi.